Buon pomeriggio e benvenuti all'ultima puntata di Salerno Granata in ritiro un saluto al mio compagno di viaggio Mario Lugiero un saluto a te Armando un saluto ai nostri spettatori che ci seguono da casa ritorniamo a bomba la salernitana ha affrontato nel pomeriggio di ieri l'Atletico Orte, 17-0 il risultato movimenti, gioco in profondità eseguiti in pieno i dettami di torrente anche se, ricordiamolo Mario siamo soltanto nei primi dieci giorni di ritiro è ancora presto in questo senso però ad ogni modo la mano del trainer c'è da dire se si vide Certo Armando la sfida di ieri non è stata certamente un test probante anche perché l'Atletico Orte ha subito clamorosamente più gol rispetto alle precedenti avversarie della salernitana però c'è da dire che soprattutto il primo tempo la squadra ha funzionato bene soprattutto il riparto del centrocampo tant'è vero che un centrocampista come Bovo ha siglato una doppietta ma ci sono stati tanti inserimenti degli centrocampisti tanto un gioco offensivo anche da parte degli esterni e un Esepi davvero in forma che ha realizzato una splendida ripletta e anche un gol devo dire la verità benissimo tecnicamente un po' difficile beh diciamo subito che l'avversario non era particolarmente quotato onestamente ci aspettavamo tutti un po' di più perché obiettivamente era sì una squadra dilettantistica però era già di un livello di promozione rispetto alle altre che non avevano addirittura formazioni amatoriali sotto questo aspetto beh quindi di conseguenza il reparto difensivo è stato poco sollecitato pertanto non può essere giudicato tuttavia qualche movimento dal centrocampo e soprattutto nella fase d'attacco si è vista con Russotto e Gabionetta particolarmente incisivi Eusepi devastante in area di rigore sappiamo tutti che l'ex bomber del Benevento predilige i tagli e i cross verso il centro un aspetto tuttavia da sottolineare è anche il centrocampo tu hai accennato prima Bovo noi abbiamo anche fatto una domanda a Torrente che adesso lancieremo immediatamente e riguarda proprio il centrocampo in particolar modo Moro e Pestrin sono due alter ego sono due giocatori che possono giocare insieme lanciamo nel momento il servizio e vediamo come ci risponde il tenerci da resa qualche lacuna da colmare ma la società sa cosa fare quindi io ho grande fiducia nella società nel direttore Fabiani quindi sicuramente sapranno cosa fare e completare questa rosa quelli bravi possono giocare dappertutto Caetano è bravo può giocare dappertutto non gioca da esterno Khalil viene dentro cerca il passaggio cerca la conclusione quindi Khalil gioca dietro dietro la punta come a volte lo fa Gabionetto come fa Russotto quindi quelli bravi io penso che possono giocare dappertutto certamente Torrente non si è sbilanciato del resto il tecnico Granata non sembra proprio a suo agio davanti alle telecamere mi sembra più bravo in mezzo al campo quando ho detto alcuni dettami tecnico-tattici alla sua squadra ma ieri diciamo c'è stato anche un assente non ha giocato infatti Caetano Khalil il brasiliano era ancora reduce da un problema al ginocchio e certamente ci sono anche le forti voci che lo vedono indirizzato verso Foggia beh diciamo che Torrente non è mai molto loquace davanti alle telecamere lo sappiamo lo abbiamo già visto nel corso della sua presentazione a Stacey Center tuttavia qualche messaggio l'ha dato importante e soprattutto mi ricollego a Khalil in pratica lui si è uscito con una frase piuttosto criptica dicendo Khalil i giocatori bravi possono giocare ovunque beh questo è vero però bisogna anche dire che il fantasista brasiliano non è un esterno sta faticando in quel ruolo tanto è vero che nella precedente amichevole non quella contro l'Orte ma quella ancora più precedente contro il Città di Leonessa ha realizzato delle reti proprio quando era uscito Eusepi per un leggero infortunio e quindi posizionandosi al centro dell'attacco a riguardo Mario proprio quest'oggi Salerno Granata ha intervistato un ex giocatore della Salernitana negli anni passati Cristian Gagnelli attuale capitano del Foggia che ci dà qualche consiglio utile su Khalil su dove deve essere impiegato e quindi richiamiamo immediatamente il prossimo filmato voglio dire penso proprio di sì innanzitutto sarebbe uno spreco averlo in serie B e utilizzarlo poco per cui l'anno scorso Khalil si è espresso alla grande ripeto in una rosa competitiva per lui era stato anche facile al momento io ripeto mi farebbe piacere però non ci penso perché stiamo ancora perfezionando la rosa e sono arrivati i giocatori importanti che ti ripeto sono venuti a completare questo percorso che abbiamo iniziato dall'anno scorso giocatori importanti se la società riterrà opportuno muoversi ancora per il centro avanti ben venga perché ti ripeto quest'anno vogliamo raggiungere obiettivi importanti e abbiamo bisogno di giocatori importanti in effetti Armando Agnelli non ha proprio torto perché Caetano Khalil ha dimostrato di saper giocare come punta centrale nel campionato di Lega Pro tant'è vero che l'anno scorso ha trascinato i Granata con ben 16 reti è anche vero però che il fallo giocare da esterno non è proprio il massimo però lui ha dimostrato noi l'abbiamo seguito in queste amichevoli Umbre che si accentra spesso cerca sempre per caratteristiche tecniche di accentrarsi e provare la conclusione quindi magari è lui anche lui che non accetta forse il ruolo confezionato dal tecnico cetarese anche vero che però forse tutti questi preoccupazioni tutti questi motivi di assestamento del suo ruolo sono dovuti anche forse al forte interessamento del Foggia e noi sappiamo qualche novità in tal caso sicuramente l'interessamento del Foggia c'è è presente è in forte pressing la società Dauna ha richiesto Khalil tuttavia la Sedana ha risposto chiedendo una cifra in denaro si parla di circa 200.000 euro il Foggia non è disposto a concedere questa cifra però si evidenzia un dato Mario se nel momento in cui una società chiede un prezzo ad un giocatore vuol dire che quel calciatore è in vendita è un dato di fatto Khalil al momento anche se non ufficialmente è sul mercato la società Dauna sta facendo pressioni per avere il calciatore Khalil ancora un anno di contratto e quindi di conseguenza vorrebbe prolungare il suo rapporto contrattuale per non rimanere svincolato il prossimo anno quindi ci sono tutte le condizioni ahimè direi affinché il forte fantasista brasiliano possa lasciare Salerno a riguardo abbiamo intervistato proprio la giornata di ieri di Bari che ci ha confermato appunto il forte interesse del Foggia d'altronde questo lo sapevamo già ma ci ha anche comunicato il fatto che a suo parere Khalil andrà via da Salerno e che al momento la saleritana non prova a cederlo proprio perché gli manca un esterno al posto proprio di Khalil in effetti in effetti in effetti ieri la faccia di non era proprio un bel programma io ora mi chiedo ma la gestione di Khalil quindi è anche quella di fallo per motivi che abbiamo spiegato nelle precedenti puntate pone un interrogativo la saleritana deve assolutamente affiondarsi su un esterno sinistro perché a parte per Rulli a parte Russotto che viene provato in quella posizione certamente per un campionato così lungo e intenso come quello della Serie B servono rinforzi Dici bene Mario ed in effetti il nome nuovo per quanto riguarda il mercato è proprio un esterno un esterno sinistro in particolar modo che è Campagnacci del Benevento sappiamo che in realtà lui è una punta una seconda punta in particolar modo però nell'ultima stagione in terra sanita si è ben disimpegnato sia con Brini che con l'Andaida nella seconda parte di stagione quando appunto il trener di Sant'Elpidio è stato esonerato è un giocatore importante ha 27 anni su di lui la salitana ci sta facendo più di un pensierino anche se torrente sollecitato in passato ha mostrato una certa ritrosia un nome anche interessante sempre sul binario Mancino ma può giocare soprattutto a destra è anche quello di Nicasso della Juve Stabia un calciatore giovane che ha dimostrato di essere portato per fare un campionato di vertice in Lega Pro ma magari anche in Serie B inoltre penso sempre caro Armando che la priorità di mercato della Sanitana sia al centrocampo abbiamo notato che ormai per Mancosu sembra essere fatta la firma sul contratto come avevamo detto anche noi di Salerno Granata a inizio settimana doveva venire nel weekend serve qualche rinforzo anche in difesa non ci dimentichiamo che comunque manca la riserva di Franco come terzino sinistro quindi c'è tanto da lavorare c'è stato l'inizio della campagna di abbonamenti molto probabilmente qualche colpo sicuramente di calciomercato la Sanitana lo effettuerà a breve sicuramente anche perché adesso la squadra Granata è incompleta ha detto tu tutto diciamo Mario in questo senso quindi priorità al centrocampo da ritoccare anche la difesa probabilmente un colpo importante in attacco da verificare Cristea sappiamo che il calciatore rumeno sta effettuando un provino dovrà convincere Torrente sotto questo aspetto vedremo se potrà essere l'Ulvice Osepi noi non possiamo fare altro nel frattempo che salutare i nostri telespettatori che ci hanno seguito con passione e dedizione e anche con tanta pazienza in queste nove puntate di Salerno Granata in ritiro e le rimandiamo naturalmente al sito di salernogranata.it dove potranno trovare tutti gli aggiornamenti sia di mercato che di allenamento che la prossima partita della Salernitana impegnata domani alle 18 contro il Foligno un test sicuramente più probante di quelli precedenti perché comunque si tratta di una compagine di serie D un caro saluto a tutti quanti coloro che ci hanno seguito sia sul sito che nelle nostre trasmissioni e nei nostri video hai detto tutto tu Armando speriamo di aver fatto un buon lavoro 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 di cui sei reggol